Ci conto allora. Posso partire? Il premio D'Eda Luminosse è un premio internazionale alla committenza di architettura. Viene assegnato ogni due anni, ha avuto inizio nel 1997 come premio regionale ed è diventato poi internazionale già dalla terza edizione. Unico nel suo genere va proprio a riconoscere la figura del committente come attore fondamentale e determinante nel realizzare opere di qualità. L'idea è quella che non basta un buon architetto per realizzare una buona architettura, ma che è dal lavoro di un team, da un processo che spesso dura anche tanto, che è faticoso e che è anche portatore di momenti di tensione, che nasce un capolavoro o una grande opera. Il nome del premio, che per noi è ovvio, non è ovvio in tutto il mondo, in quanto Dedalo e Minosse sono per l'Europa soprattutto il primo esempio di rapporto fra committente e architetto. Dedalo è forse il primo architetto della mitologia, il nome del premio è anche un po' scherzoso perché ad un certo punto Minosse ha pure tentato di uccidere Dedalo, quindi sappiamo che non sono tutte rose e fiori. Il premio è cresciuto nel tempo, quest'anno abbiamo avuto 500 iscrizioni da 33 paesi e alcuni nuovi paesi si sono affacciati, il Libano per esempio e l'Iran, il Giappone è uno dei luoghi da cui ci arrivano il maggior numero di progetti, Nord Europa, gli Stati Uniti, Sud America e i tipi di lavoro che la giuria passa in rassegno sono tantissimi, da piccole case, piccoli oggetti anche a grandi edifici, sistemazioni urbane, quest'anno abbiamo avuto la città di Torino per esempio tra i committenti, il macro di Roma e anche privati che hanno costruito la casa della loro vita, committenti per una volta sola, quindi ci sono sia privati che non hanno l'esperienza del committente, ma che comunque hanno affrontato con intelligenza il progetto che le grandi amministrazioni, le real estate e la grande libertà che ha sempre avuto la giuria è stata quella di affiancare piccole occasioni a grandi, grandi nomi a giovani architetti, studi affermati o anche studi meno conosciuti che però hanno perseguito con grande tenacia la ricerca della qualità. Il premio è promosso dall'associazione Alasso Architetti, che è l'associazione degli architetti liberi professionisti italiani e quindi l'intento è di esprimere anche attraverso il simbolo di una città come quella di Vicenza che comunque ha questo richiamo internazionale per il mondo dell'architettura, un messaggio di ricerca della qualità e di ricerca di un dialogo con figure che sono esterne al mondo degli addetti ai lavori, in quanto spesso il mondo dell'architettura è autoreferenziale, mentre l'apporto di altre figure, di altre esperienze è fondamentale per imparare ad ascoltare il mondo esterno, riuscire a reinterpretarlo e a creare opere di qualità. Per questo il Dedalo Minosse si apre all'arte, oltre che ai costruttori, alle imprese e alle aziende, si apre anche al cinema con una nuova edizione del Dedalo Cinema. Va bene.